un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video siamo su brawlalla un gioco che mi avete consigliato proprio voi nei commenti dello scorso video e voglio ringraziare infatti revo per avermi consigliato di dare un'occhiata a questo gioco che un gioco fatto sulla base di smash bros per wii gioco a cui ho giocato per un periodo e volevo andare appunto a portarvi un video ragazzi su questo gioco non so se fare una partita uno contro uno o free for all c'è un free for all anche se un po giuro un casino allora ho fatto qualche partitella per provare e devo dire che quello con cui mi trovo un pochettino meglio per quanto non ci siano abominevoli differenti tra tutti fatto è che questo quello che mi ci trova un pochettino meglio anche non è male qui questa specie di dl no come si chiamava quello io non mi ricordo vabbè andiamo avanti non impantaniamoci allora questo è il pre partita ovviamente un gioco ragazzi come avrete capito di combattimenti e ci gioco con tastiera e mouse perché ho provato con il joystick ma davvero il joystick non usando roppito un bel po sono diventato un tantinello pipponcino quindi preferisco mouse e tastiera ed eccoci qua signori e signori spero l'audio si senta ben proporzionato alla mia voce perché è potente questo gioco quindi non so mai come dosarlo quando escono i giochi così potenti e dove sto lì sopra ok allora prima cosa è impadronirmi di un'arma me l'hanno stillata eccola vai prendi padroniscitene no 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 damage via fuga e muori cazzo no 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 vediamo un po schiatta cazzo vediamo a chi dobbiamo colpire io sono il più danneggiato di tutti dobbiamo riuscire a beccare il tizio lì quello con l'arco va via fuga fuga io me lo smascio e poi faccio il fugone no no quello ci abbiamo rischiato dai attenzione attenzione lui lui se lo becco bam schiatta merdaccia o se lo so stillati sicuro ah l'adoro quest'arma l'adoro bom vi trapano cazzo no via via prendere le misure no 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 non ci posso credere non ci posso credere allora andiamo qui prendiamo l'arma scappiamo becchiamo questo non appena torna ciao bello ciao ciao saluta ma no 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 di qua oh oh fugone devo prenderci un pochino anche dalla mano e schiatta verme se non c'era il muro lo sparavo in orbita ma muori oh niente sempre contro il muro lo sbattono devo beccare quello giallo sta per decollare me l'hanno stillato lo sapevo è morto è morto ma quando mai venite a prendere l'arma vieni bam ciao gli dissi due coppini va di due coppini dobbiamo beccare quello marrone no 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 eccolo vai ciao caro ciao ci vediamo alla prossima è stato un piacere e bam no chi quello giallo oh sbagliato a smashare no ok wow bella questa bella andiamo giù 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 no 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 non mi rompere le balle non mi rompere le balle no 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 cazzo cazzo cia la puttana come un muro mi ha tirato in orbita mi ha sparato dai andiamo di qua chi è in difficoltà quello giallo andiamolo a prendere nooo si rifugia lì per non farsi smashare fuori fatto malissimo aia aia dammi la spada oh fighissima questa fighissima e va no aia aia oh no 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 aspetta di qua vai treppene no beccato nessuno nessuno di qua e vai cazzo il damage gliel'ho fatto niente questo devo riuscire a prenderci bene questo qui con l'arco e cazzarola porca troia se ce lo prendo mamma mia se ti inzaccagno ne dai e dai oh devo riuscire a fottercelo non si fa fregare non si fa fregare oh cazzo oh cazzo marda andiamo di qua aia malissimo beccati questa e beccati aiuto no sali no 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 torna giù torna giù torna giù eh la vedo difficile la vedo difficile che l'ho spuntata però per poco ho fatto secondo dai non me la sono cavata proprio malissimo che ho combinato 4 3 e non ho fatto neanche troppo schifo alla fine potevo se fosse uscire in saccagnasto maledetto samurai che invece non si è fatto prendere comunque ragazzi comunque se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace così ne porterò altri sicuramente magari faremo anche una sfida con gli iscritti un torneo di questo gioco non lo so anche perché free to play quindi tutti se lo possono scaricare 300 megabyte mi pare pesi quindi una miseria credo giri su abbastanza tutti pc non penso sia un gioco molto potente quindi invito anche a voi a provarlo se vi è piaciuto quindi like commento fatemi sapere che ne pensate io vi saluto ci vediamo come sempre nel prossimo video